Signorina De Pasquale, un'impressione di questa esperienza che hai avuto con Giorgio Tramontini? È stato carino perché abbiamo anche provato a disegnare sull'altra esperienza nuova. Ti sarebbe da ripetere anche il prossimo anno per imparare altre cose? Sì, secondo me è divertente. Questo è il tuo disegno, che rappresenta? Bello, grazie. Lorenzo, buongiorno. Adesso vogliamo chiedere a te un'impressione di questa esperienza con il maestro Giorgio Tramontini. Da non fare più o da fare ancora? Sì, sì. Ti sembra di aver imparato qualche cosa oppure no? Abbastanza. Abbastanza. Cos'è mancato? Non c'è mancato niente. Cioè, ma non sei molto soddisfatto? No, non so poi. Va bene, grazie Lorenzo. Tu vuoi dire la tua impressione su questo disegno con Giorgio Tramontini? Che Giorgio Tramontini ci ha aiutato a esprimere ciò che facciamo e anche a non avere confini sulla realtà e avere anche tanta fantasia. Grazie. Mi dici una tua impressione su questa esperienza nuovissima, possiamo dire che è un'esperienza nuovissima? Sì. Quello ne pensi? È un'esperienza importante perché riesco a capire come mai questi quali pensano e poi potrei essere un realistica però esprimermi e aver capito che posso anche disegnare facendo delle cose che non sono vere eppure che piacciono agli altri. E tu pensi che si possa ripetere anche il prossimo anno? Sì, mangiare. Bene, grazie. Grazie.